Escono dalla microzona rossa Tavuglia e Acqualagna, ma rimangono Montelabate, Vallefoglia e Cerretodesi. Lo hanno stabilito la Regione e il Servizio Sanità sulla base dell'andamento dell'epidemia. Infatti, in questi tre comuni persiste un'incidenza superiore a 250 positivi settimanali su 100.000 abitanti. Per questo, il presidente Francesco Acquaroli oggi ha firmato un'ordinanza con lo scopo di rallentare il contagio. Da mercoledì 28 aprile a martedì 4 maggio compresi, Montelabate, Vallefoglia in provincia di Pesero Urbino e Cerretodesi nell'Anconetano saranno nella fascia cosiddetta arancione rafforzato. Dunque verranno tutte le misure previste per le zone arancioni, ma all'interno del territorio comunale saranno consentiti gli spostamenti nei suoi casi di salute, studio, lavoro e comprovate necessità come previsto nelle zone rosse. Sarà sempre necessario utilizzare l'autocertificazione per giustificare ogni spostamento. Invece, per quanto riguarda le scuole e le attività economiche, resta in vigore quanto già previsto dalla zona arancione. La regione infine precisa anche che continuerà ad analizzare il tasso di incidenza dei contagi in tutte le marche per valutare la necessità di adottare misure più restrittive.